Carapapundi è fighissimo! Era meglio che era che si fa in Italia con la mamone, è vero guarda non è per il complimento ma è proprio vero! Confermo quello che ha detto mia moglie! Era bella esperienza! Fighissimo Canipo Mundo! Spacca ragazzi! Questa edizione è sempre meglio della precedente, come sempre no? La Fiera, ti devo dire che si è aperto un mondo che non conoscevo! Indoorline è presente come azienda da 1999 e ci occupiamo tra tante cose quella di vendere materiale per la coltivazione ma soprattutto di eseguire progetti per la costruzione di stanze per poter coltivare standardizzando le condizioni di coltivazione. Abbiamo portato qua molti marti che vengono dall'estero, dagli Stati Uniti, dall'Olanda, per portare a vedere le ultime tecnologie a disposizione per poter coltivare le vostre piante. Siamo una banca del seme olandese che produciamo temi in Olanda, abbiamo un negozio ad Amsterdam e siamo contenti di stare qui a Canapa Mundi per distribuire, per fare un passaparola di quello che... del lavoro che abbiamo svolto in Olanda. Il bello è che comunque persone con menti aperte si confrontano e non c'è... non ci sono giudizi, ecco, si ascoltano le persone senza pregiudizio. Ci vediamo il prossimo anno! Siamo una ditta di illuminazione d'Inglaterra, però abbiamo due centri di distribuzione a Portogallo e l'altro a Inglaterra. Siamo una ditta con venti anni già di lavoro nel mercato. Sicuramente volveremo... no, sicuramente torneremo il prossimo anno. Ci vediamo Canapa Mundi, tantissima gente, un sacco di novità, molta roba da mangiare, buonissima e tanto divertimento davvero. Dovete tornare l'anno prossimo sicuramente. Ci vediamo l'anno prossimo, ciao! Ciao!